Il teorema dei residui 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 D'altra parte Quest'integrale possiamo spezzarlo in due parti Come l'integrale Sul segmento che va da meno r a r Quindi da meno r a r Di 1 diviso 1 Più Adesso è inutile che metto z alla quarta Perché quando sto nel segmento qui Che va da meno r a r Sto sull'asse reale Quindi anche se ho un numero complesso Quel numero è diventato reale Quindi x alla quarta In dx Più l'integrale Su La semicirconferenza superiore Che rimane Chiamiamola s con r Della quantità 1 diviso 1 Più z alla quarta Tende z E ora l'idea È proprio far tendere r a più infinito Diciamo questo qui Lo calcolo Con un numero Sarà una certa quantità Chiamiamo beta D'altra parte Beta è uguale alla somma Di questi due pezzi Questo pezzo Più questo pezzo Quando r tende a più infinito Questo qui tenderà All'integrale definito Tra meno infinito E più infinito Di questa quantità Mentre Quando r tende a più infinito S con r Tende a diventare Una semicirconferenza Di raggio infinito Tende a svanire nel nulla E quindi Quello che ci aspettiamo Intuitivamente È che questo pezzo Tenda a zero E quindi Proprio in questo modo Riusciamo a calcolare L'integrale che volevamo Quindi Detta l'idea Adesso procediamo In che modo Facciamo così Consideriamo F di z La funzione 1 diviso 1 Più Z Alla quarta E calcoliamo L'integrale Lungo la curva CR Della funzione F di z In d z Con il teorema Dei residui Allora Come prima cosa Dobbiamo andare A determinare Le singolarità Della funzione L'unico problema Di radici Di radici quarte Di meno uno E adesso Quindi Dobbiamo fare Le radici quarte Di un numero Complesso E alla I pi greco Quali sono Queste radici Abbiamo Quattro soluzioni Che sono E elevato alla I pi greco Quarti E poi Diciamo Tutte le altre Si ottengono Ogni volta Aggiungendo Al numeratore 2 pi greco Quindi la seconda Sarà E elevato alla I pi greco Più 2 pi greco Diviso 4 Ce ne sono Soltanto 4 E elevato alla I più 2 pi greco Più 2 pi greco Quindi 4 pi greco Diviso 4 E poi ci sarà E elevato alla I pi greco Più 6 pi greco Diviso 4 E quindi In particolare Che si riducono Diciamo A z0 Uguale E elevato alla I pi greco Quarti Z1 Uguale E elevato alla I 3 quarti Pi greco Z2 Uguale E elevato alla I 5 quarti Pi greco E infine Z3 Uguale E elevato alla I 7 quarti Pi greco Ora Di queste singolarità Quali ci interessano? Ci interessano Quelle che ricadono Nella regione Racchiusa da questa curva Andiamo quindi A rappresentarle Graficamente Z0 È E elevato alla I pi greco Quarti Cosa vuol dire? E elevato alla I pi greco Quarti È un Punto Che si trova Sulla circonferenza Di raggio 1 E che ha Angolo proprio Pi greco Quarti Con l'asse Immaginario Con l'asse Reale Scusate Quindi Questo qui Sarà l'angolo Di 45 gradi Questo qui Sarà il nostro Punto E elevato alla I pi greco Quarti Stessa cosa Z1 È E elevato alla I tre quarti Pi greco Quindi qui Abbiamo Z0 L'angolo Tre quarti Pi greco Sta esattamente Di qua Qui ci avremo Z1 E poi così via Qui avremo Z2 E qui avremo Z3 Quindi a noi ci interessano Soltanto Z1 E Z0 Perché sono gli unici Le uniche due singolarità Che cadono all'interno Della regione Che tipo di singolarità sono? Per questo facciamo qualche osservazione Prima di dedurlo Ma è abbastanza facile F di Z Che si scrive come 1 diviso Z alla quarta Pi 1 Si può anche fattorizzare Perché Z alla quarta Pi 1 Abbiamo tratto tutte le radici Del denominatore Quindi questo si può scrivere come Z meno la prima radice Z meno la seconda radice Z meno la terza radice Z meno la quarta radice Quindi qui è un'unica frazione Scriviamo bene 1 fratto questa quantità qui Quindi è chiaro Che il numeratore Vabbè è costantemente Uguale a 1 Quindi non da alcun tipo di problemi Z uguale a E elevato alla I pi greco quarti Annulla il denominatore Con una radice Appunto di ordine 1 Stessa cosa Con E elevato alla I tre quarti Pi greco Cioè sono due poli di ordine 1 Perché annullano il denominatore In senso sono radici del denominatore Ma sono di ordine 1 Quindi Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z1 Sono Sono due poli semplici, semplici intendo di ordine 1. A questo punto dobbiamo andare a calcolarci i residui. Facciamo il primo caso, quindi dobbiamo calcolare il residuo della funzione f di z nel punto z0, ovvero il residuo della funzione f di z nel punto e elevato alla i pi 4. Sappiamo che e elevato alla i pi 4 è un polo semplice, quindi possiamo usare la formuletta per il calcolo dei residui dei poli semplici, che è data dal limite per z che tende al punto, quindi e elevato alla i pi 4, di che cosa? Di f di z per z meno z, il meno il punto, quindi meno e elevato alla i pi 4. Quindi andiamo a sostituire l'espressione che ha z qui dentro e per rendere tutto più evidente andiamo a sostituire l'espressione di f di z fattorizzata, cioè questa qui, così che in tal modo il numeratore z meno e elevato alla i pi 4 si andrà ad eliminare con questo pezzo del denominatore. Quindi possiamo scrivere, supponendo di aver già fatto questa semplificazione, possiamo scrivere direttamente il limite per z che tende alla e elevato alla i pi 4, di che cosa? Di 1 diviso, ci saranno 3 termini, quelli rimanenti, ovvero z meno e elevato alla i 3 quarti pi greco per z meno e elevato alla i 5 quarti pi greco per z meno e elevato alla i 7 quarti pi greco. Adesso questo è un limite, andiamo a sostituire al posto di z il suo valore limite e otteniamo 1 diviso e alla i pi greco quarti meno e alla i 3 quarti pi greco che moltiplica e alla i 5 quarti pi greco che moltiplica e alla i pi greco quarti meno e alla i 7 quarti pi greco. Quindi ora si tratta di fare queste moltiplicazioni. Soltanto facciamole in modo furbo, ad esempio riscriviamo tutto nel seguente modo. Nella prima parentesi mettiamo un'evidenza con e elevato alla i pi greco quarti. E cosa rimane dentro la prima parentesi? 1 meno e elevato alla i 3 quarti pi greco meno pi greco quarti, ovvero 3 quarti meno 1 quarto fa 2 quarti, quindi e elevato alla i pi greco mezzi. Poi mettiamo un e elevato alla i pi greco quarti in evidenza anche nella seconda parentesi, rimane 1 meno e elevato alla i pi greco e poi infine mettiamo un e elevato alla i pi greco quarti in evidenza. E di nuovo cosa rimane? 1 meno e elevato alla i volte e in questo caso diventa 6 quarti, quindi 3 mezzi pi greco. Andiamo a fare i calcoli. Allora, questo per questo per questo è semplicemente fa, rischiamo uguale, 1 diviso e elevato alla i si sommano, quindi 3 volte pi greco quarti, quindi 3 quarti pi greco. Poi la prima parentesi diventa 1 meno, vi ricordo che e elevato alla i teta, quindi elevato a un numero puramente immaginario, si esprime come coseno di teta più i volte seno di teta, quindi in questo caso diventa coseno di pi greco mezzi più i volte seno di pi greco mezzi, ma coseno di pi greco mezzi fa 0 e quindi rimane meno i volte seno di pi greco mezzi che fa 1, quindi meno i. Poi abbiamo 1 meno, di nuovo coseno di pi greco fa meno 1 e seno di pi greco fa 0, quindi diviene 1 meno meno 1, quindi più 1. E poi cosa rimane? 1 meno coseno di 3 mezzi pi greco fa 0, mentre seno di 3 mezzi pi greco fa meno 1, quindi viene meno meno 1 per i, quindi più i. E quindi in sostanza moltiplicando questo termine con questo termine, che è un prodotto per differenza, per differenza questo qui fa 1 al quadrato meno i al quadrato e ricordandosi che i al quadrato fa meno 1, otteniamo 1 più 1 uguale a 2 e quindi il risultato che otteniamo è 1 quarto e elevato alla i tre quarti pi greco, che usando le proprietà delle potenze può essere scritto come e elevato alla meno i tre quarti pi greco diviso 4. Quindi quello che abbiamo trovato con tutti questi calcoli qua è che il residuo di f di z nella singolarità z0 vale e elevato alla meno i tre quarti pi greco tutto fratto 4. Con la stesso metodo calcoliamo il residuo di f di z nel punto z1, che appunto è il residuo di f di z in e elevato alla i tre quarti pi greco. Di nuovo e elevato alle i tre quarti pi greco è un po' lo semplice, quindi possiamo scrivere il limite per z che tende e elevato alla i tre quarti pi greco di f di z che moltiplica z meno e elevato alla i tre quarti pi greco. Facendo esattamente gli stessi calcoli di prima, adesso fidatevi del risultato, quello che viene fuori è uguale a meno un quarto e elevato alla meno i volte tre quarti pi greco. Scusate, no, ho sbagliato, viene più un quarto e elevato alla meno i volte pi greco quarti. Ovviamente quando intendo i calcoli di prima sono esattamente gli stessi, cioè andiamo a sostituire al posto di f di z la sua espressione fattorizzata, andiamo a semplificare e poi andiamo a sostituire z e fare le opportune moltiplicazioni. Quindi in particolare ora che ci siamo trovati entrambi di residui, possiamo concludere che dal teorema dei residui abbiamo che l'integrale sulla curva che abbiamo chiamato cr della funzione f di z, quindi di 1 diviso 1 più z alla quarta in dz, quanto vale? Vale 2 volte pi greco i, la somma di tutti i residui delle singolarità che cadono nella regione racchiusa dalla curva. Quindi il residuo di f di z nella singolarità z1. Facciamo questo conto e quello che viene fuori è 2 pi greco i, allora il primo residuo era un quarto che moltiplica e elevato alla meno i tre quarti pi greco e poi veniva più un quarto che moltiplica e elevato alla meno i pi greco quarti. Possiamo mettere un quarto in evidenza e portarlo fuori, quindi possiamo scrivere pi greco i diviso 2 e adesso usiamo lì, quindi questo un quarto e un quarto vengono portati entrambi qui fuori e usiamo proprio la definizione di esponenziale di un numero puramente immaginario, cioè e alla i teta che appunto è coseno di teta più volte seno di teta. Quindi in questo caso otteniamo coseno di meno tre quarti pi greco quarti più volte seno di meno tre quarti pi greco, perché in questo caso teta è meno tre quarti pi greco, abbiamo più coseno di meno pi greco quarti più volte seno di meno pi greco quarti. E se adesso disegniamo la circonferenza coniometrica, dove sta meno tre quarti pi greco? Beh abbiamo qui meno pi greco quarti meno pi greco mezzi, questo qui è meno tre quarti pi greco, quindi il coseno è negativo e il seno pure è negativo, il coseno sarà questo segmento qua, il seno sarà questo segmento qua, il coseno in particolare vale quanto quello di pi greco quarti solo col segno meno davanti. Quindi abbiamo pi greco i diviso 2 che moltiplica radice di 2 su 2, vi ricordo che coseno di pi greco quarti è radice di 2 su 2 col segno meno davanti, meno i volte radice di 2 su 2. Mentre meno pi greco quarti si trova qua, quindi il coseno stavolta ha segno positivo, quindi è più radice di 2 su 2, mentre il seno continua a dire segno negativo, meno i volte radice di 2 su 2. Andiamo a semplificare quello che si può semplificare e a questo punto quello che resta è pi greco i diviso 2 che moltiplica meno i volte radice di 2 su mezzi, meno i volte radice di 2 mezzi e quindi fa meno i radice di 2, ovvero meno i alla seconda pi greco quindi meno, scusate, i alla seconda pi greco radice di 2 tutto fratto 2, vi ricordo che i alla seconda fa meno 1 che con quel meno davanti fa pi greco radice di 2 mezzi e quindi abbiamo valutato il nostro integrale, l'integrale sulla curva appunto cr fra proprio pi greco radice di 2 fratto 2. Vi ricordo come era fatta la curva cr, la curva cr era proprio questa qui. E adesso utilizziamo l'idea di prima, cioè che l'integrale lungo questa curva può essere scritto prima con un integrale lungo questo segmento e poi con un integrale lungo questa semicirconferenza. Quindi, diciamo conclusioni, adesso arriviamo. abbiamo detto che pi greco radice di 2 mezzi è uguale all'integrale lungo cr proprio della funzione 1 diviso 1 più z alla quarta in dz e può essere scritto come l'integrale tra meno r e r di 1 diviso 1 più x alla seconda in dx più l'integrale lungo, quella chiamata la semicirconferenza superiore, di 1 diviso 1 più, scusate non alla seconda ma alla quarta, z alla quarta in dz. In particolare noi vogliamo ricavarci questo perché noi volevamo quello che vogliamo calcolare. È l'integrale tra 0 e più infinito della quantità 1 diviso 1 più x alla quarta in dz. Ora facciamo la conservazione, innanzitutto la funzione integrande è una funzione pari, quindi se faccio l'area nell'integrale tra 0 e più infinito oppure faccio l'integrale tra meno infinito e 0 è la stessa cosa, quindi questo qui possiamo scriverlo come un mezzo l'integrale tra meno infinito e più infinito di 1 diviso 1 più x alla quarta in dz. Ancora una volta questo qui possiamo scriverlo come un mezzo il limite per r che tende a più infinito dell'integrale tra meno r e r di 1 diviso 1 più x alla quarta in dz. Adesso utilizziamo questa espressione qui di sopra proprio per ricavare questa parte qui. Quindi questa qui possiamo scriverlo come un mezzo il limite per r che tende a più infinito di che cosa? Questo qui possiamo scriverlo come tutto l'integrale sulla curva c di r grande che valeva proprio pi greco radice di 2 su 2 meno l'integrale sulla semicirconferenza superiore di 1 diviso 1 più z alla quarta in dz. Ora questa è una costante quindi esce fuori dal limite e quello che otteniamo è che questa qui è uguale a pi greco radice di 2 diviso 4 meno il limite per r che tende a più infinito dell'integrale su s di r di 1 diviso 1 più z alla quarta in dz. E come ci suggeriva prima l'intuizione ci aspettiamo che questa quantità faccia 0. quindi adesso andiamo a calcolarci proprio per concludere calcoliamoci questo limite quindi e vi ricordo come è fatta vabbè è una semicirconferenza di raggio r comunque dato r diciamo che sarà qualcosa di questo tipo quindi questa qui è s con r soltanto quella che adesso vado a ricalcare il rosso e quando r tende a più infinito questa qui no r cresce cresce il raggio cresce la circonferenza quando r tende a più infinito ci aspettiamo che in un certo senso svanisca infatti è proprio quello che accade adesso andiamo a vedere perché vogliamo stimare la quantità diciamo stimiamola in modulo modulo di s sull'integrale su s con r di 1 diviso 1 più z alla quarta in dz effettivamente quello che sta dentro il modulo questo è un integrale curvilineo è un integrale perché è un integrale curvilineo perché possiamo ad esempio parametrizzare s con r come una curva la curva fi di t uguale a r volte e alla i grande t dove t in quale intervallo varia varia deve partire dall'angolo 0 così partiamo da questo punto e deve arrivare fino all'angolo pi greco così arriviamo in quest'altro punto in particolare siccome per l'integrale curvilineo serve anche conoscere la norma del vettore derivata abbiamo che fi primo di t lo scriviamo in nero è uguale se deriviamo rispetto al tempo i volte r per e elevato alla i t e quindi in particolare la norma in questo caso è il modulo di fi primo di t è uguale a modulo di r elevato alla i t beh vi ricordo che il modulo di i vale 1 il modulo di r vale proprio r perché r è una quantità positiva il modulo di e alla i t vale di nuovo 1 perché appunto e alla i t è un numero che sta sulla circonferenza di raggio 1 quindi il modulo vale 1 quindi in particolare questo integrale qui possiamo riscriverlo quindi come modulo adesso utilizziamo proprio la definizione integrale curvilineo quindi l'integrale tra 0 e pi greco della funzione calcolata nella curva quindi 1 più r alla quarta e alla i 4t che moltiplica il modulo del vettore derivata quindi per r quindi questo r scriviamolo qui questo integrale è fatto rispetto al tempo vogliamo provare a maggiorarlo in modo da trovare qualcosa più grande di lui che tenda a 0 quando r da 3 più infinito proprio per confermare la nostra idea come possiamo maggiorarlo? possiamo ad esempio portare il modulo dentro l'integrale r è positivo quindi il modulo non lo vede quello che abbiamo è un modulo di 1 diviso r alla quarta e elevato alla i volte 4t il tutto in dt di nuovo vogliamo maggiorare quindi vogliamo trovare una cosa del tipo integrale tra 0 e pi greco di r diviso vogliamo maggiorare questa frazione come facciamo a maggiorarla? dobbiamo mettere al denominatore una quantità più piccola perché se al denominatore mettiamo una quantità più piccola la frazione cresce quindi in particolare qual è una quantità più piccola di modulo di 1 più r alla quarta e elevato alla i 4t quindi il numero che sta dentro il modulo è un numero complesso avrà parte reale e parte immaginaria e la parte reale sarà 1 più la parte reale di quel numero quindi questa qui sarà la parte reale e poi avremo più in volte parte immaginaria che sarà semplicemente la parte immaginaria di quel numero quindi in particolare quando faccio il modulo se al numero tolgo 1 alla parte reale ottengo qualcosa di più piccolo quindi questa qui sarà sempre maggiore di r alla quarta e elevato alla i 4t qual è il modulo di r alla quarta e elevato alla i 4t? è il modulo di r alla quarta che è proprio r alla quarta perché è positivo per modulo di e elevato alla i 4t ma vi ricordo che il modulo di e elevato alla i teta qualunque sia teta in questo caso vale 4t è sempre 1 quindi questo qui è proprio r alla quarta e quindi abbiamo trovato che possiamo maggiorare il nostro integrale mettendo al denominatore r alla quarta poi l'integrale farlo in dt portiamo r diviso r alla quarta che sarebbe 1 su r alla terza fuori dall'integrale perché non dipende dal tempo quello che rimane è l'integrale tra 0 e π di dt e quindi vale proprio π e quindi abbiamo concluso perché l'abbiamo trovato come potete vedere modulo dell'integrale su s con r di 1 diviso 1 più z alla quarta in dz è minore uguale di π su r alla terza che chiaramente tende a 0 quando r tende a più infinito quindi effettivamente quanto fa questo limite fa 0 possiamo togliere il punto interrogativo qui e quindi possiamo concludere che il nostro integrale vale proprio π radice di 2 diviso 4 perché era π radice di 2 diviso 4 meno quel limite ma quel limite fa 0 quindi conclusioni l'integrale definito tra 0 e più infinito di 1 diviso 1 più x alla quarta in dx vale proprio π radice di 2 diviso 4 con questo abbiamo finito l'esercizio grazie a tutti